Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Era diretto in Francia il pacco sospetto che la Guardia di Finanza ha trovato in un centro spedizioni nell'Interland di Napoli, contenente circa 7 kg di infiorescenze di canapa indiana confezionati in sacchetti di cellofan pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo. Seguendo i dati a disposizione coordinati dalla Procura di Napoli Nord, i finanzieri del gruppo di Fratta Maggiore sono giunti nella provincia di Benevento a casa di una persona che è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente al termine di una perquisizione domiciliare. Complessivamente sono stati scoperti e sequestrati una piantagione composta da circa 600 arbusti di canapa indiana e quasi 60 kg di marijuana essiccata che, messa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito di 550 mila euro. Abbiamo deciso di lanciare uno sciopero unitario FIM, FIOM e Wilm in programma per venerdì 18 ottobre con manifestazione nazionale a Roma in Piazza del Popolo perché la situazione è drammatica. Il nostro paese sta ingranando la retromarcia per quanto riguarda il settore dell'automotive. E' quanto affermato da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL, incontrando i giornalisti a Napoli in vista della mobilitazione. Noi abbiamo deciso di dichiarare uno sciopero di otto ore insieme unitario FIM, FIOM e Wilm di fare una manifestazione straordinaria a Roma in Piazza del Popolo. Esattamente perché la situazione è quella in cui il paese sta ingranando la retromarcia per quanto riguarda l'automotive. Il rischio è a rischio e ci sono decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori. C'è una responsabilità precisa di Stellantis, l'amministratore delegato ha fallito gli obiettivi industriali e occupazionali, abbiamo perso in 10 anni più di 10 mila lavoratori, rischiamo di perdere altre migliaia nel corso dei prossimi mesi. Per questo noi chiediamo che a Palazzo Chigi sia convocato l'amministratore delegato dalla Presidente del Consiglio per fare un patto, un accordo sul futuro dell'automotive e di Stellantis nel nostro paese. Solo Stellantis il problema? Assolutamente no, in Italia il problema è tutto il sistema dell'automotive, perché si producevano 1 milione e 800 mila veicoli, oggi se ne producono meno di 300 mila ed è chiaro che la componentistica ha un impatto assolutamente negativo, sono a rischio migliaia di lavoratori dentro l'industria della componentistica e noi crediamo invece che oggi è il momento di cambiare, in particolare in Campania, dove abbiamo bisogno di un ruolo anche della regione Campania, che ad oggi purtroppo è stata assente. Oggi voi sarete a Caivano un po' meglio, giusto? Oggi saremo davanti a due stabilimenti, la Marelli e la Liar, che sono due stabilimenti di componentistica, perché in particolare nel mezzogiorno noi pensiamo che l'automotive è il centro dello sviluppo del futuro dell'industria del nostro mezzogiorno e invece corriamo il rischio con gli effetti che ci sono del calo dei volumi produttivi di Stellantis da un lato e dall'altro lato dei problemi che si sono aperti in altre case automobilistiche in Europa di avere effetti negativi anche sulle aziende della componentistica. Per questo serve un pacchetto straordinario di risorse e di norme. Secondo De Palma, una responsabilità precisa è di Stellantis, l'amministratore delegato ha fallito gli obiettivi industriali e occupazionali. Insieme a De Palma in conferenza stampa il segretario generale della FIOM CGL Campania, Massimo Guglielmi, e il segretario generale FIOM CGL Napoli, Mauro Cristiani. Ma in Campania il settore dell'auto rappresenta ancora oggi il settore più grande da un punto di vista di industria metalmeccanica. Solo tra Pomigliano e Prato la Serra abbiamo oggi oltre 5.700 lavoratori impiegati. Nel frattempo purtroppo anche per effetto degli accordi di incentivo all'Esodo abbiamo perso quasi 600 lavoratrici e lavoratori. Quindi è evidente che il settore dell'auto rappresenta l'industria principe di questa regione, del resto noi storicamente abbiamo sempre lavorato in questa regione per produrre auto. Le scelte di Stellantis che indeboliscono gli stabilimenti a partire dalla Campania sono scelte gravi e quindi per quanto ci riguarda il 18 saremo presenti massicciamente dalla Campania e contiamo di portare oltre 5.000 lavoratori. Oggi è ovvio che scontiamo un problema, il problema che senza una politica industriale sul settore dell'automotive si naviga a vista. Anche per questo c'è uno sciopero generale proclamato da FIM FIOM e Wilm e per quanto riguarda Pomigliano la partecipazione è molto alta, oggi siamo 12 pullman, sicuramente aumenteranno perché è evidente che quello che in questi anni è mancato è un rapporto con il sindacato e soprattutto un piano industriale, quello che noi rivendichiamo anche attraverso una convocazione di Tavares insieme ai sindacati, con il governo, insieme al Ministro Ursi, al Presidente del Consiglio Meloni, perché senza il settore automotive è ovvio che la Campania ha grosse ripercussioni occupazionali e di prospettiva. Migliaia di persone hanno affollato il primo weekend di Tisposo, il salone campano dell'alta moda sposi ideato e organizzato da Ares 20. Giunta la sua undicesima edizione, la Kermess, considerata tra gli appuntamenti più attesi in Campania nel mondo del wedding, quest'anno si è svolta all'interno del centro commerciale La Cartiera a Pompei. Oltre 60 gli espositori coinvolti che avranno il proprio spazio allestito all'interno di una tenso struttura di 2.500 metri anche il prossimo weekend dal 18 al 20 ottobre. Tra le novità di questa edizione, quella che ha catturato di più l'interesse del pubblico, sicuramente il Vinci un Matrimonio, un concorso che mette a disposizione delle future coppie di sposi la possibilità di vincere fino a 25.000 euro da spendere in servizi per il grande giorno. La coppia vincitrice sarà estratta il giorno di chiusura di Tisposo. Tisposo non è soltanto un salone espositivo che comprende tutto ciò che riguarda il wedding, decorazioni, ville per cerimoni, auto di lusso, bomboniere, fotografi e arredamento. Nel corso dell'evento, infatti, ci saranno diversi appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni importanti atelier del territorio partenopeo e della provincia di Napoli. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il patron dell'evento, Pasquale Garofalo. Tisposo dà la possibilità agli sposi di vedere tutte le tendenze, i particolari del matrimonio e quindi venire a Tisposo è un proiettato alle novità. Noi abbiamo inventato questo concorso già da diversi anni, diamo la possibilità di sposarsi gratis, quindi basta registrarsi sul nostro sito e venire l'ultima domenica a Tisposo, c'è l'estrazione di un abito, della macchina, del servizio fotografico, viaggio, quindi abbiamo detto che il matrimonio ci sono 60 gradi gratis. Tanti gli appuntamenti in programma anche nel prossimo weekend da segnalare, il concerto di Maria Nazionale. A tagliare il nastro della manifestazione è Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei. Sono sempre ben lieto e fiero di sposare i ragazzi, pure perché celebrano molti matrimoni e per me è sempre un piacere, naturalmente lo è anche stasera che inauguro proprio una delle cose che riguarda gli sposi e quindi comunque l'appello a questi ragazzi di prendere la strada giusta e non solo. Io dico sempre di fare molti figli. Una storia delicata e gentile che parla al cuore. Dalla penna e dall'inventiva di Ivan fedele nasce pallina la farfalla blu che non sorrideva. Una favola che cerca di spiegare ai bambini l'autismo. Una storia di amicizia e di grande umanità che è nata osservando le dinamiche tra i più piccoli nelle sezioni della scuola per l'infanzia. Il volume pubblicato da Edizioni Mea si abbale dei disegni di Chiara Finizio. La presentazione è presso il teatro dell'Istituto Sacro Cuore a Napoli. Ai nostri microfoni la soddisfazione dell'autore Ivan Fedele. Questa fiabe è stata scritta in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo ad aprile. È stata scritta proprio per raccontare con leggerezza questo fenomeno, per tentarlo di raccontare anche ai bambini. Però pallina è anche la storia di un'amicizia perché in una comunità ci si muove sempre insieme. Il problema di uno diventa il problema di tutti. Oggi ci stiamo un po' allontanando da questa concezione ed è molto grave. Quindi c'è bisogno anche, voglio dire, di raccontare che c'è un altro modo di vivere i problemi e c'è un altro modo di vivere l'insieme, la comunità. Qualsiasi problema si affronti nella scuola o fuori nella scuola, il primo passo è sempre l'empatia. Poi vengono anche tutte le metodologie. Quindi ogni educatore che voglia avvicinarsi, aiutare famiglie con bambini, con disabilità, deve avere tanto 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 amore, tanta voglia, tanta empatia perché è l'ingrediente principale. La storia di pallina è stata raccontata a scuola con l'aiuto dei kamishibai, lo strumento teatrale attraverso il quale i cantastori orientali narravano le loro favole. Pallina, la farfalla blu che non sorrideva, merita di essere letta, raccontata e tramandata, allo scopo di coltivare un mondo più inclusivo e più umano. Alla presentazione, tra gli altri, anche l'assessore regionale alla scuola e alle politiche sociali e giovanili della regione Campania, Lucia Fortini. Può essere un aiuto secondo me per un approccio culturale diverso perché soprattutto con i bambini e le bambine dobbiamo insegnare che diverso non significa meno, che ognuno di noi è diverso dall'altro e quindi, come dire, confrontarsi con le peculiarità di ciascuno. Il volume presso sarà portato anche in scena grazie alla spinta della dirigente scolastica Gabriella Talamo. L'ho letto e sicuramente lo drammatizzeremo anche. Sì, sì, lo scoop di oggi è che, dalla sua idea, questo libro diventerà uno spettacolo teatrale interpretato da bambini. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.